Ora sta a sentire, non ho molto tempo, non ti posso aiutare. Ho finito l'ectoplasma, da ora in poi agirei da solo. Santo cielo, come farò? Forse se mi fornisci le prove contro Tigre, le porto al giudice istruttore. È andato all'opera. Bene, sta a sentire. La ragazza che è stata uccisa era Giulia Lavalla Ballerina. Giulia Lavalla Ballerina. Esatto. Sta parlando col salame, crede che sia una ballerina. Che peccato così giovane, fa vedere. Poi Tigre l'ha uccise. Esatto, lei minacciò di denunziarlo e lui la colpì alla testa con una bottiglia di champagne e la strangolò. Me lo ricorderò, champagne e poi io rissa, lei minaccia e informare polizia. Ora parla col barile delle aringhe e crede che sia un poliziotto. Magari lo fosse. Io vedi Tigre portarla fuori, ora sta a sentire, è molto importante. Giulia Lavalla si chiamava Pina Smith e aveva nascosto le prove che aveva contro Tigre insieme agli esemplari dei dollari falsi in una cassetta di sicurezza che aveva quel nome. Pina Smith. No, Teobaldo, non potresti. Che succede? Bene, se riuscirai a cavartela tanto meglio per te. Se non riesci, fa rivedersi la sua. Teobaldo! 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 No, aspetta, torna qui! Teobaldo! Così giovane e già così bellissimo. La, 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 la. Papà, ne entra uno e ne escono tre. Guarda! Ora saremo aperti alla clientela per 24 ore al giorno. Corridoio di destra. Corridoio di sinistra. Corridoio di destra. Il biglietto, prego. Guardi, io non ho il biglietto, ma deve lasciarmi entrare. Devo parlare col giudice istruttore, è venuto qui all'opera. Deve andare a dirlo al direttore, da quella parte. Biglietti, prego. Corridoio di destra. Un momento, prego, dov'è il suo biglietto? Non ho biglietto, non ho denaro, ma devo entrare. Ci vuole il biglietto. C'è qualcuno che devo vedere, mi stanno inseguendo. Un momento, mi spiace. Non comprende, devo entrare. Edward! Corridoio di destra. Scimia. Corridoio di sinistra. Deumondo! Deumondo! Corridoio di sinistra. Sì! Vieni, vieni, vieni. Ora, vieni, ora, qua, qua. Vieni, ora, qua, qua. La diaframa, avete capito? No, l'impostazione non deve essere nella gola, se no la voce è legata. No, la gola, il diaframa. Così si deve mettere la pezzi chiave. Silenzio. Dalla maschera, nel diaframa, e poi... Così. Cosa vuole. Va e, dai. Vieni, vieni. La cadena paria è nata. Vieni, vieni. Vieni, vieni! Vieni. Vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Il ha il ruo di này è nata, non è vero di necchiare. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. No! 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 Il nome di Giulia Laval! Giulia Laval, eh! Giulia Laval, eh! Giulia Laval, eh! Fina Smith! Fina Smith, Fina Smith, Fina Smith! Il mio bene, questo è il nome. Attenzione, voi troverete le prove nella cassetta. Voglio farmi come è vero, è vero, è vero, è vero, tutto vero, tutto quanto vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.